Quando sento che l'ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci dice di aver seminato la rinascita davvero in orridisco, impazzisco e penso che tutti i cittadini di Taranto impazziscano a sentire queste favole, queste ipocrisie, queste falsità che vengono propinate all'opinione pubblica. Mi trovo in città vecchia, precisamente a Piazza Fontana, guardate che scempio, da un anno quest'area, questa zona completamente rotta, giace transennata, vedete i mattoni completamente rotti, sollevati e l'area transennata, transennata da un anno. Nessuno si è degnato di intervenire, qui anche la grata sta sprofondando quello che è stato fatto dall'amministrazione Melucci, mettere le transenne e via. Chi si è visto si è visto, nel cuore del borgo antico dicono giustamente i cittadini arrabbiati, da un anno. Melucci questa è la tua rinascita? È uno scandalo, le immagini parlano chiaro, i cittadini parlano in modo altrettanto chiaro. Da un anno, qui ci sono pericoli per le persone, per la viabilità, perché la carreggiata si restringe. Qui alcuni giorni, e lo sentiremo alcuni giorni fa, ci sono stati anche degli incidenti stradali. Ma è possibile che in un anno non si riesca ad intervenire? È possibile vedere i mattoni sollevati, le grate rotte? Ora anche il filo di plastica è stato tolto lungo le transenne, lungo la recinzione. Il borgo antico di Taranto, ridotto ad un cesso, ridotto ad un cesso, questa è la vergogna, questa è la vergogna. Ma come fai Melucci a ripresentarti sindaco? Cosa dovrai spiegare ai cittadini? Cosa dovrai dire? Guardate come si restringe la carreggiata, le persone, le macchine hanno difficoltà a camminare. Guardate, è mai possibile uno scempio del genere? Vergogna, solo vergogna, vergogna e vergogna. E ascoltiamo la viva voce di un cittadino. Io sono della città vecchia, questo è uno scandalo, sai perché? Perché è un anno che stanno così, quelle griglie. E la transenne. E le transenne. I mattoni rotti. Vengono i vigili, spostano la transenna, spostano la transenna e rimane sempre così. Che la notte io abito più avanti, danno fastidio di notte ai bambini che dormono e si svegliano e l'altro giorno una moto è caduta e si hanno fatto male. E dovevano farlo. Ma la cosa che fa rabbia è che Melucci dice di aver seminato la rinascita. Questa è la rinascita? Eh, si vede. Si vede lo scempio che c'è qua. Una zona che doveva essere curata, coltivata, coccolata, invece da un anno uno scempio. Adesso ha fatto un anno. Accenderemo la candelina. E' abbandonata da molto tempo. E infatti ancora si fanno male le moto, le macchine. E' un pericolo. Io penso che sia arrivata davvero l'ora di svoltare, di cambiare. Siamo stanchi. I cittadini della città vecchia, del borgo antico, non meritano di essere schiaffeggiati in questo modo. Prendiamo esempio da altre città italiane, i cui borghi antichi vengono rispettati, vengono valorizzati, diventano la perla. E invece qui assistiamo all'abbandono, al degrado, al menefreghismo, all'incapacità amministrativa. Questo hai fatto in quattro anni e mezzo, caro Rinaldo Melucci. Quello è tutto. E' la pulizia. E' la pulizia della fontana. Che ci fanno i cani a fare i bisogni. I cani che vanno tutto là. Prima si puliva, dieci anni fa. Adesso sono sei, sette anni che non fanno niente. E' per le zanzare, la stagione, le zanzare, il cattivo odore. E caro Melucci, così si promuove il turismo? Così si rende attrattiva la città, offrendo ai turisti il degrado? E le attività commerciali che insistono nella zona ricevono dei danni pesanti da questo stato di degrado. Immaginate invece come sarebbe diversa una città vecchia attrattiva, curata, organizzata, invece di questo schifo.